Ciao amici di Italia Top Games, da oggi lunedì 21 febbraio è arrivato il demo o la demo come preferite voi di Daymare 1994 Sandcastle, nuovo videogame tutto italiano, produzione e sviluppo tutto made in Italy di Daymare 1994 Sandcastle, videogame sequel a livello di uscita ma prequel a livello narrativo di Daymare, altro titolo già uscito, che si rifaceva ai survival horror degli anni 90 a cominciare sicuramente a Resident Evil, qui siamo di fronte a un prequel narrativo ma ovviamente a livello di grafica e di evoluzione il gioco è andato ancora migliorando allora, oggi esce la demo, noi abbiamo avuto modo di provarlo qualche giorno in anticipo rispetto all'uscita e quindi, oggi voi potete provarlo anche voi, ma se volete vederlo, eccolo qui potete vedere con me, com'è questo gioco ripeto, un horror tutto, tutto italiano non c'è storia, non c'è nulla, è una demo, come spesso gabita, che parte direttamente oh, sì, sentiamo bene saliamo i don't hear them anymore allora, abbiamo due armi fucile a pompa e shotgun arma veloce, arma più lenta ma più potente andiamo 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 C'è proprio un po' di più. Ok. Ok. ok i proiettili non bastano mai bene non c'è altro niente ok dobbiamo procedere a spegnere l'incendio qui c'è un po' di ostacolo c'è un po' di ostacolo d'ostacolo il cattolo di ostacolo di ostacolo di ostacolo di ostacolo We'll see how tough you are when I freeze your ass. We'll see how the other ones are dead. non so cosa abbia fatto ma sono contento niente si rialza questo infame non c'è un colpo di grazia si ha capito che è meglio scampo non c'è un colpo di grazia eh che vorrei fare la finisher? ma perchè non me la consenti di fare? fu***** oddio che vedo tutto sono ne so male 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 fu***** s***** eh ragazzi è dura è dura questo simpatico signore non vuole mai morire non riusciò a fare la finisher riproviamo ma c'è una questione di onore ah che bello questi simpaticizzatori hanno intanto che altro si Anche naturalmente Adesso vogliamo Sistemare questi due simpatici ragazzi Eccolo Che situazione ragazzi Non mi piace Non mi piace Non mi piace Posso fare qualcosa A tre sicuramente Eccolo l'ho messo Una possibilità Il Zamner Ha bisogno di care Security lock Andiamo un po' Di venire come Disse Affinare E qui Di Grazie a tutti. Certo, posso raffreddare i sensori, magari. Ecco. Si scalda molto rapidamente. Oh, ecco. Ecco, ci ho messo un po'. Ah, si riscalda subito però. Pervenzione. Eh, allora possiamo... E' un po' riettile. Allora... Eccolo. Direi che... Allora, a 1, a 2 e a 3. Direi... A 2... Si raffredda subito. A 1. E' un po' di più. E a 3. E' un po'. E' un po' di più. Sì No, non basta Poi atti che non basta Eccolo 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 E' l'ultimo Eccolo Eccolo Vai Vediamo che succede, eccoci Vecchia maniera la L'entrata Così, eh Pure chi lo sa E' sulla demo Per far dire Non si vede molto, eh Eccolo 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 Sembra esserci un aereo Questo silenzio mette i brividi Eccolo 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 Da oggi Anche Per tutti voi Ciao e al prossimo video Eccolo Eccolo Eccolo